possiamo incominciare posso cominciare buonasera a tutti quanti buonasera a tutti i presenti amici sono contento di incontrarmi con voi tutti quanti il dibattito è particolarmente interessante ha per oggetto un tema a mio avviso in parte trascurato nel dibattito politico italiano soprattutto per le sue implicazioni culturali perché non è soltanto una dimensione geopolitica quella degli accordi di Abramo e dei suoi riflessi sulla popolazione israeliana araba e palestinese quanto piuttosto all'interno di questa dimensione geopolitica si sono innestati tanti aspetti anche di carattere culturale religioso che non andrebbero trascurati inizierò con la dimensione geopolitica uno scontro secolare tra lo sciismo e il mondo sunnita l'emergere della mezzaluna sciita che mette in particolare difficoltà il mondo arvo pensiamo a paesi come l'Iraq che sono in parte controllati dall'Iran anche se sono paesi indipendenti o alla situazione tragica che ha vissuto la Siria poi c'è un secondo aspetto che è lo scontro all'interno del mondo sunnita tra il fondamentalismo legato alla fratellanza musulmana e i vari regimi sunniti arabi che a loro volta sono al loro interno attraversati da questa profonda crisi per cui si può parlare anche di fitna cioè di una guerra interna la umma islamica che ha provocato migliaia e migliaia centinaia di migliaia di morti dentro questa dinamica c'è il conflitto tradizionale arabo-israeliano il contenzioso israelo-palestinese la divaricazione tra la leadership del West Bank da un lato è Hamas che è di matrice fratellanza musulmana anche se ha una sua specificità palestinese spesso la gente non conosce manco lo statuto di Hamas mi è capitato in un paio di dibattiti con personalità di spessore tra l'altro dentro questa cornice si inserisce una dimensione geopolitica nuova che però è il frutto di cambiamenti avvenuti negli ultimi venti anni dopo la crisi che tragicamente hanno conosciuto gli accordi di Oslo e che ha visto emergere in maniera pagmatica soprattutto un rapporto sempre più stretto tra Israele e alcuni del colpo sviluppi che hanno avuto una dimensione militare ma anche economica e che però piano piano hanno assunto una nuova dimensione in connessione anche ad una sorta di autorizzazione dell'Arabia Saudita che è rimasta ferma al modello proposto agli inizi del 2000 sulla possibile composizione del conflitto israelo-palestinese ma che trovandosi anche in una grande difficoltà in relazione all'Iran ha bisogno in qualche modo di trovarsi le spalle relativamente coperte anche perché ha uno scontro interno non indifferente e ci sono modelli di cambiamento in discussione quindi è una dinamica in movimento dall'altro lato c'è Israele che ha bisogno di rompere un isolamento c'è l'Egitto che è in grande difficoltà quindi abbiamo una situazione in grande movimento c'è una dimensione geopolitica che oggi verrà approfondita c'è una dimensione culturale, umana che verrà anche questa approfondita dalla presenza di Samar che lavorano sul campo contribuendo allo sviluppo di dialogo tra persone che è una cosa estremamente importante da non sottovalutare e poi c'è una dimensione religiosa che secondo me potrebbe avere in futuro una grande rilevanza non dimentichiamo che l'Arabia Saudita è stata per decenni uno dei centri dell'antisemitismo islamico e non dimentichiamo anche l'11 settembre il fatto che all'interno di regimi che in passato o anche in presente sono legati all'ideologia wahhabita si autorizzi l'idea che gli avrei israeliani sono presenti nella regione non come dimmi ma come nazionalità autonoma organizzata pienamente inserita nella regione con una sua storia nella regione è un elemento nuovo certo è compasso alla fine di questo sviluppo ma se vogliamo come dire far sì che alcuni elementi possano in una situazione così difficile implementarsi dobbiamo lavorare anche in questa direzione l'idea che per la prima volta dopo decenni in un accordo tra israeliani e stati arabi si parli di Abramo si appare di accordo di Abramo è un elemento che fornisce una novità da non sottovalutare gli accordi con l'Egitto per esempio sono stati una pace fredda perché sono stati una pace politica in un mondo fortemente attraversato dalla dimensione religiosa anche gli accordi di Oslo non contenevano questo aspetto e sono falliti proprio quando si è arrivati a parlare di Gerusalemme non è un caso e quando è stata affrontata la questione dei profughi che non è una questione di profughi perché la questione dei profughi nella storia dell'Occidente e nelle tragedie del dopoguerra sono state composte ma quando le tragedie assumono un carattere religioso legato ad una lettura particolare della tradizione religiosa come è avvenuto per esempio negli scritti di Qutb oppure di Hassan el-Banna stiamo parlando degli anni 20 e 30 quindi molto prima del conflitto arabo-israeliano in cui si parlava di ricostruzione del califato le cose assumono una dimensione diversa quindi questa mia piccola premessa che non esaurisce ovviamente un discorso così complesso la propongo come mini apertura di riflessione sulla quale gli amici qui presenti diranno l'errore potranno contribuire ad approfondire anche a mostrare alcuni aspetti che magari mi sono sfuggiti e quindi darei la parola direttamente a Sergio Della Pergola che ha svolto con impegno in questi anni una riflessione legata alla dimensione demografica del conflitto ed è un aspetto da non trascurare ed ha avuto un grande impegno anche all'interno di Al-Vashem ma che questo non è un elemento secondario ed è da sempre una delle voci più attente e anche capaci di mettere insieme pezzi diversi di questo difficile e complesso mosaico quindi la parola a Sergio Della Pergola grazie Davide buonasera a Piero Fassino all'amico che rivedo con piacere dopo alcuni anni buonasera Angelica e grazie a Daniele Frigeri per aver organizzato questo dibattito io vorrei partire da un episodio cioè proprio da una considerazione epidermica di quello che è avvenuto in questi giorni molto difficili e cioè l'altro pomeriggio e sono oramai quasi tre settimane seduto esattamente a questo tavolo dove mi vedete ho sentito uno strano rumore fuori dal balcone e sono riuscito a vedere sembrava una motociclista volgare con i motori al massimo poi sembrava un aeroplano a bassa quota ma non era e alla fine abbiamo provvisamente capito che era l'allarme antiaereo non sembrava reale questo pomeriggio ma improvvisamente abbiamo sentito boom e poi boom due boom erano due missili che provenivano da Gaza e che erano caduti alla periferia occidentale di Gerusalemme uno a circa 5 km da casa mia uno a circa 10 km gli altri 5 razzi erano stati intercettati dalla contraerea israeliana lo stupore più totale veramente la più totale in preparazione naturalmente con mia moglie la figlia il nipotino di un anno e mezzo siamo corsi nel rifugio sotterraneo che c'è nel nostro condominio abbiamo aspettato di sentire cosa succedeva era l'inizio di questo tragico conflitto che poi è durato per 11 giorni ma a parte alcune considerazioni più specifiche su quello che è avvenuto a Gaza e fino sul cielo di Tel Aviv partirei proprio da questo elemento della sorpresa più totale e cioè il fatto di essere mentalmente ma anche analiticamente impreparati a questa cosa poi naturalmente retrospettivamente possiamo ricostruire i fatti quello che effettivamente era avvenuto nei giorni precedenti erano delle tensioni a Gerusalemme fuori delle mura della città vecchia ripensandoci erano gli ultimi e più sacri giorni del Ramadan ma per una coincidenza di calendari calendario islamico e il calendario ebraico che con una rotazione diversa a volte si incontrano a volte no capitava che era anche l'anniversario della presa di Gerusalemme durante la guerra dei sei giorni secondo la data ebraica e allora persone sia in buona fede sia anche estremisti va detto chiaramente i provocatori avevano cominciato a creare delle scaramucce fuori della città vecchia era stata anche programmata direi molto incautamente una sfilata di bandiere israeliane attraverso il quartiere islamico della città vecchia di Gerusalemme veramente direi inappropriato ci sono tanti percorsi che si possono fare e la polizia era intervenuta c'erano state già delle scaramucce un deputato dell'estrema destra nazionalista tale Itamar Bengvir aveva posto un tavolino davanti alla città vecchia e aveva cominciato a provocare i locali ora questa era però un'atmosfera di scaramucce perfino di randellate da parte della polizia e comunque un episodio abbastanza locale finché arrivano i due missili su Gerusalemme e arriva anche una dichiarazione da parte di Gaza che dice noi siamo i difensori della città e quindi tutto quello che avviene a Gerusalemme noi siamo incaricati di prevenirlo o di guidarlo nel senso giusto quindi sappiate che noi siamo i padroni di casa ora tutto questo avviene in in un momento in cui in Israele la psicologia di massa era molto influenzata da quello che è avvenuto anche durante i giorni dell'epidemia coronavirus 19 in cui in Israele è avvenuto un fatto abbastanza interessante a parte la piuttosto efficiente misura nel combattere la grande forse più rapidamente e con maggiore successo che in altri paesi ma quello che era stato molto messo in rilievo e osservato da tutti era la forte collaborazione che era avvenuta negli ospedali nel sistema sanitario fra il personale ebraico e il personale arabo in cui si era finalmente capita la interpenetrazione di questi due elementi nella società israeliana in cui fra l'altro dalla parte araba che chiaramente è una minoranza di circa il 20% nello Stato di Israele esistono delle elite esistono dei primari dei professori primari dirigenti di reparti esistono ovviamente dei sanitari esistono anche degli operai delle pulizie ma voglio dire la presenza è a tutti i livelli estremamente apprezzata estremamente solidale ecco la parola della solidarietà che si è creata in questi giorni era un poco all'ordine del giorno e una sorpresa positiva nell'ambito di un Medio Oriente sempre molto conflittuale e inoltre stava avvenendo un fatto politico abbastanza straordinario cioè nella polarizzazione estrema della politica israeliana si stava mettendo in moto una possibilità di creare una coalizione governativa con la partecipazione per la prima volta in maniera ufficiale statutoria di un partito arabo il partito islamico diretto dal deputato Mansur Abbas omonimo non so se parente di Abumazel il quale era chiaramente candidato a dare il voto decisivo a una maggioranza fra l'altro o di un tipo o di un altro ma comunque a partecipare al governo israeliano lo stesso Abbas aveva spiegato molto bene in televisione la sua posizione in quanto cittadino israeliano era dunque impegnato a portare avanti gli interessi di quella parte della cittadinanza araba che fa parte dello Stato di Israele e questo si fa meglio all'interno del governo che non contestando il governo dall'esterno quindi sto dando un quadro di una di una relativa convergenza e di un relativo superamento di tensioni che stava creando una certa atmosfera di ottimismo in Israele quando improvvisamente avviene l'attacco dei missili e allora qui se dal lato diciamo così sul mano Gerusalemme simbolicamente va difesa è vero anche che Gerusalemme è la capitale dello Stato di Israele e nessuno non a Roma non a Washington può tollerare che dei missili cadano sulla capitale senza reagire era quindi evidente che ci sarebbe stata una reazione da parte di Israele reazione che sarebbe stata dura infatti è stata dura e poi si parlerà della mancanza di proporzionalità che ovviamente è un cavillo che non ha molto senso perché non ci può essere mai ci potrà essere proporzionalità fra un assalto e una difesa la difesa deve deve fare stoppare questo assalto ma il fatto di principio rimane un altro ripeto sottolineando quell'atmosfera di convergenza quasi di cordialità che si stava instaurando nella mente di molti israeliani ritorniamo al punto zero al punto di partenza in cui ci dobbiamo riportare a un Hamas che rappresenta la posizione estrema ovviamente con l'appoggio dell'Iran mentre un'altra componente Hezbollah dal Libano sta a guardare quella componente che nega assolutamente l'esistenza di Israele la possibilità di Israele di esistere e perfino richiamandosi a un testo coranico se vogliamo poetico ma che però va letto letteralmente l'articolo 7 dello statuto di Hamas che dice tra l'altro dietro ogni albero e dietro ogni sasso si nasconde un ebreo vieni Abdallah e uccidi l'ebreo che si nasconde dietro ogni albero e ogni sasso e questo è un programma politico di un partito non è un testo poetico e si manifesta poi chiaramente nel comportamento di Hamas che manda 4400 razzi missili e colpi di mortaio sulle città israeliane paralizzando quindi la vita di circa metà del paese si tratta su 9 milioni di persone perlomeno 5 milioni sono stati sotto coprifuoco in un momento o nell'altro il numero delle vittime 13 non è altissimo anche se uno sarebbe uno di troppo centinaia di feriti gravi danni alle proprietà la difesa antimissilistica israeliana lavora con efficienza ma riesce a respingere e abbattere circa il 90% dei proiettili rimane pur sempre un 10% che fa dei danni quello che è straordinario è da un lato la capacità di armamento e di produzione da parte di Hamas si calcola che l'arsenale di Hamas comprenda 14 mila pezzi quindi se 4 mila sono già stati usati ce ne sono nelle cantine altri 10 mila pronti per l'uso secondo questi pezzi vengono chiaramente immagazzinati sotto le moschee sotto gli asili sotto le abitazioni private i lanciamissili compresi quelli a nove bocche sono sui tetti delle case o nelle piazze o nei vicoli o nelle scuole di conseguenza la reazione israeliana fatalmente crea anche delle vittime civili ma questo vuol dire soprattutto un fatto che in parte David ha cui ha accennato e cioè la lotta a tutto quartiere e senza nessuna possibilità di compromesso di accettazione da parte di questa frangia che riconosciamolo non è il tutto è una parte del mondo musulmano ma che con grande coerenza si rifà a dei testi a dei manifesti e agisce di conseguenza la cosa sorprendente ripeto è che tutto questo avviene in un momento in cui si può pensare a un accomodamento a un processo a qualche cosa che porti a uno spirito diverso e invece questo spirito diverso evidentemente non c'è e si può anche dire forse non è possibile questo crea la necessità di ricalcolare completamente il percorso purtroppo con delle conseguenze molto deleterie per il dibattito aggiungiamo che appunto gli accordi di Abramo avevano chiaramente dimostrato che esiste un'altra parte dell'Islam che è disponibile a un dialogo a parte l'Egitto con il quale di fatto esiste una vicinanza questo aspetto qui magari nel secondo concludo 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 solamente con una frase che allora ci riporta a parte appunto questa diversità del mondo islamico su cui poi riparleremo un'ultima frase è che tutto questo però avviene e non possiamo ignorarlo in una fase di grave vuoto politico e di crisi al limite quasi esistenziale del sistema dei partiti e del Parlamento israeliano questa è una gravissima vicenda che va avanti oramai da oltre due anni e quindi in questo vuoto anche manca la capacità decisionale aggiungerei legittima e concordata da parte delle istituzioni israeliane di misurarsi con questa situazione che si è creata e quindi abbiamo in realtà una doppia crisi una crisi esterna ma anche una crisi interna con la quale poi dobbiamo fare i conti ecco fin qui grazie Sergio magari nella seconda parte questo aspetto che hai toccato per ultimo nel tuo intervento sia la dimensione degli accordi di Abramo sia la crisi del sistema politico che sta la crisi che sta attraversando il sistema politico israeliano magari possono essere ripresi io direi a questo punto di ascoltare Angelica insieme alla sua collega Samar magari ecco prima l'una l'una e poi l'altra per vedere come sul campo le persone di buona volontà che non perdono la visione del futuro e che sono quotidianamente impegnate a costruire qualche cosa che resti per il futuro cioè a impedire la deriva e questo è molto importante perché si fa nelle scuole si fa nel teatro si fa quotidianamente quindi se tu potessi presentare una parte del tuo lavoro te ne saremmo molto grati allora proprio quest'anno sono vent'anni che è nato il teatro dell'arcobaleno il teatro dell'arcobaleno è iniziato proprio durante la seconda intifada quando ho sentito proprio il bisogno dopo aver portato 50 ragazzini colpiti dal terrorismo in Italia ho sentito il bisogno di mettere insieme ragazzi ebrei arabi palestinesi drusi per potersi conoscere ora io abito da 45 anni in Israele in un kibbutz della Galilea al confine proprio con il Libano un chilometro dal Libano e dove siamo noi a 5 chilometri c'è un villaggio musulmano a 5 chilometri un villaggio cristiano drusi circasi di tutto e questo teatro continua da 20 anni ora quello che voglio dirvi è con grande dolore che penso che Samar non sia entrata a parlare perché ha paura e questa è la cosa di cui ho veramente un grandissimo dolore dove siamo noi sulla fascia che va da Naria proprio dal confine con il Libano Roshanikran a Kura in arabo fino a Sfat ci sono circa 40 chilometri e praticamente è uno dei posti più più pastorali del mondo dove insieme viviamo israel ed arabi è cambiato queste ultime settimane hanno cambiato tutto vi do un piccolo esempio una dei miei ragazzi del teatro è di Gush Halav del villaggio arabo di Gush Halav il padre e la madre il padre è arabo e la mamma ebrea si sono conosciuti 20 anni fa e si sono sposati una giornalista italiana mi ha chiesto se potevo dare il loro nome scusate ma mi ha chiesto se poteva fare un servizio su matrimoni misti ho telefonato a questa persona di Gush Halav che è una persona di una dolcezza straordinaria dove siamo in un rapporto armonico bellissimo ho detto guarda Angelica io sarei pure disposto però senza che dici i nostri nomi senza che si pubblica che siamo qui di questo posto di questo villaggio sempre che che non abbia tante onde qua in Israele questa è la cosa più dolorosa che posso raccontarvi quello che è successo ultimamente è una un baratro terribile tra gli ebrei tra gli ebrei di Israele e gli arabi di Israele questa mattina ho scritto io lavoravo fino adesso cioè in questi vent'anni ho fatto dei progetti meravigliosi con il Parlamento Europeo e se questo è il motivo per cui abbiamo fatto questi incontri e chiedete che cosa si può fare questo è quello che si può fare far conoscere le persone far capire chi siamo noi chi siamo noi e chi sono gli arabi chi sono i palestinesi chi sono tutte le persone che abbiamo intorno perché questa mattina ho parlato con una rappresentante del Ministero degli Esteri che in questi vent'anni ci hanno veramente aiutato tantissimo a fare dei progetti meravigliosi progetti con cui siamo arrivati con i nostri spettacoli fino dal Papa in cui abbiamo rappresentato in Giordania abbiamo fatto delle cose stupende e questa mattina l'ho scritto Gali succede qualcosa con i nostri arabi l'ho scritto così e lei mi ha scritto Angelica non sono più i nostri arabi purtroppo c'è qualcosa da fuori che sta convincendo a non essere più con noi e voi non potete immaginarvi il dolore di tutto questo perché fino adesso abbiamo fatto tutto insieme ora quando mi dicono gli arabi sono cittadini di seconda classe in Israele io ho partorito con me nella casa nell'ospedale di Sfat c'erano a parte che c'erano tre donne arabe e di cui sono felicissima ma tutto il tempo arrivavano gli elicotteri tra l'altro che portavano i feriti dalla Siria che si stavano uccidendo e li insieme li portavano da noi all'ospedale perché il nostro ospedale è il più vicino alla Siria il mio kibbutz sta a 50 km in linea d'aria da Beirut e 70 km in linea d'aria da Damasco per dirvi dove siamo per darvi una regolata ma per dirvi cioè ieri siamo andati da Tel Aviv a Sasa al mio kibbutz ho visto una cosa che non ci credevo sulla strada che si chiama Wadi Ara che è un Wadi cioè una valle in arabo la chiamiamo in arabo noi si chiama Wadi Ara sei semafori distrutti bruciati non esistono più i semafori e questi semafori sono tutti fuori dei villaggi arabi cioè Kfar Kassem tutti questi villaggi qua di tutti arabi israeliani allora mi chiedo ma perché non vi rendete conto cioè perché non vi rendete conto che si può stare insieme e quello che sta succedendo è che si sta rovinando tutto perché queste persone vengono strumentalizzate e questa è la cosa più terribile perché perché non ci lascia più lo spazio di nessun dialogo non ci lascia del mio kibbutz lavorano tantissimi arabi dei villaggi circostanti e lo vedo la vedo la tensione perché non è più non è più ok stare con gli ebrei e questa è una cosa che è solamente si dice in italiano una zappa sui piedi degli arabi perché gli arabi israeliani stanno benissimo e io ve lo posso dire di prima persona e ve lo dico sinceramente io vado Meretz per cui non è sono contentissima di dirlo e abbiamo sempre fatto un ottimo lavoro con arabi ed ebrei anche nel mio teatro e io adesso sento questa paura sento che c'è qualcosa qualcuno da fuori che vuole dividerci che vuole che ci sia questa guerra non solo con i palestinesi intorno ma con anche quegli ebrei che sono con noi qua cioè ci vediamo a dirlo perché Samar è la mia più grande amica per dirvi due parole su Samar io e Samar ci siamo conosciute 19 anni fa in piena intifada quando mi chiesero di andare a scrivere un articolo su di lei perché lei era la direttrice del dell'orfanotrofio di un orfanotrofio a Betania proprio in zona palestinese lei è nata a Gerusalemme Est io mi sono portata la mia guardia del corpo portai mio marito perché era poibitissima entrare allora a Gerusalemme Est e dal primo momento ci siamo sentite più che amiche sorelle abbiamo cominciato a lavorare insieme sul piano educativo pedagogico una pedagogia del dialogo una pedagogia del conoscersi di sapere chi siamo sia le queste ragazze sia con i miei e purtroppo adesso si vede che che non può venire ad incontrarsi con noi ve lo dico con tutta sincerità mi sembra che Samar si sia connessa quindi qualche cosa di buono conferma Frigeri che si è connessa si è connessa non non è attivo il microfono Samar ci sente? vedo che non è attivo quindi lei ci sente sicuramente spero veramente spero se ora decidessi di intervenire saremo molto contenti anche perché questa accoppiata di due persone che da vent'anni lavorano immaginando un mondo possibile di convivenza nel rispetto reciproco delle differenze mi sembrava molto importante anche perché non ha niente a che vedere con l'estetismo della pace che talvolta può anche risultare fastidioso invece il lavoro sul campo di persone che sono consapevole delle difficoltà che si incontrano quotidianamente io voglio aggiungere una piccola cosa che oggi insegno all'università della Galilea a un college al Tel Hai College e da noi ci sono studenti alla facoltà di pedagogia ci sono studenti ebrei cristiani musulmani drusi del Golan per cui di tutto e vi posso dire solo una cosa il lavoro pedagogico è di aprirsi agli altri e quando noi lavoriamo su questo sono molto felici ben contenti di poter ristaurare un rapporto del genere perché tutti noi non fanno niente da dove veniamo non è importante da dove veniamo vogliamo essere amati vogliamo crescere i nostri figli e vogliamo creare qualcosa che ci faccia vivere serenamente questo è il messaggio puro e semplice grazie Angelica darei la parola a Piero Fassino io ho ascoltato la testimonianza di Sergio e questa veramente emozionante di Angelica e ho trovato lo possono testimoniare Daniele e Davide che credo in questi giorni abbiano letto le cose che io ho scritto che quello che loro hanno raccontato corrisponde esattamente all'analisi che io ho offerto delle vicende che stavano accadendo cioè il punto che emerge qual è? che si sta rompendo quello che era il principio che faticosamente era stato ricostruito nel 91 con la conferenza di Madrid e che era la base dell'accordo di pace del 93 il principio era il reciproco riconoscimento cioè noi abbiamo avuto un lungo periodo come tutti sappiamo tra il 1948 e il 1900 se collegata a Samad se vogliamo dargli la parola io posso parlare dopo grazie a Dio grazie a Dio prego sentite sì allora io sono stata un pochino arrabbiata perché vorrei tanto abbracciare tutti voi io sono contenta proprio contenta di essere con voi finalmente allora io vorrei raccontare un episodio molto piccolo quando ero proprio a Betania allora quando abbiamo iniziato la nostra opera che era l'anno 71 la zona di Betania era governata totalmente dei israeliani e questi israeliani sono venuti sempre ad aiutare con la nostra opera io non dimentico mai la la gentilezza della questa gente che sono venuti a guardare il benessere di questi bambini allora io non dimentico mai quelli che sono venuti proprio ad aiutare i bambini palestinesi nel questo periodo di tempo che erano totalmente israeliani allora dopo il 95 era l'accordo di Oslo e sono tornati proprio i palestinesi a governare tutto quanto e abbiamo detto l'addio a questi israeliani che sono stati però io dico sempre che nel passato è stato molto meglio di adesso la situazione dei bambini situazioni della gente e ci sono tanta gente in palestina che dicono la stessa cosa allora io dico un'altra cosa che noi nel passato siamo stati invitati sempre come orfanatrofi di tutta la zona ai campi stivi a fare la pace tra israeliani palestinesi dopo il 95 tutto era smesso non abbiamo fatto più queste attività di pace tra bambini che sono il futuro del mondo e siamo stati aiutati dall'estero da tanta gente a fare questi campi stivi io vi auguro e spero che torna questo periodo di tempo di insegnare ai bambini per fare la pace tra uno e quello che è diverso allora dico la verità che nella nostra vita siamo stati l'unica organizzazione che ha continuato ad educare dei bambini quando tutte le scuole in palestina sono stati chiusi la prima intifa da due anni che le scuole sono state chiusi noi l'orfanatrofio nostro è stato l'unico orfanatrofio che ha continuato avanti con le minacce che abbiamo ricevuto primo punto secondo punto io personalmente non ho lasciato questi bambini tirare dei sassi fuori dell'orfanatrofio siamo stati l'unico posto con questo metodo di educare ai bambini perché io per me l'educazione è una cosa molto importante quello che sta accadendo ora è una strada sbagliata per il futuro di tutti i bambini che sono in palestina perché noi dobbiamo insegnare sempre ad amare l'altro ad amare l'altro mi dispiace che tanta gente non sono d'accordo però questa questo quello che penso io che è una cosa sbagliata per educare bambini come facciamo crescere questi bambini allora io sono visuta sei anni al nord di Israele sei anni l'ultima cosa io sono andata a lavorare dove c'è Abun alias Shakur l'arcivescovo di tutta la Galilea e dico che io non ho mai visto che una cosa al contrario della convivenza tra israeliani palestinesi io non ho mai visto sei anni che sono visuta là era una cosa proprio diversa a quello che io ho visto al West Bank una cosa totalmente diversa è una cosa di pace di amore una lingua un'altra lingua non è arabo ebraico e arabo nella stessa frase io l'ho chiamata la lingua di pace allora io vi auguro dal tutto il mio cuore che torna un pochino di questo passato di pace tra israeliani palestinesi perché la vita così non va bene non va bene io quello che ho vissuto al nord di israele è stata un'esperienza molto bella di amore di ricchezza di convivenza per me una donna che nel passato ero al West Bank era troppo difficile all'inizio capire questo amore questa questa convivenza questa amicizia tra le famiglie israeliane e arabi del nord che si chiamano palestinesi col passaporto palestinese dico noi dobbiamo lavorare tutti quanti a tornare a questo punto di amicizia e di bellezza io sono palestinese ora perché ho ricevuto la cittadinanza israeliana ora però dico io quando quando verrà il tempo vado a celebrare il shabbat con i miei amici israeliani nella quartiera israeliana allora e loro dicono a me dicono noi non sentiamo che sei strana noi non sentiamo che sei fuori del nostro nostro cerchio della preghiera no perché io sto cercando per una convivenza per una cosa bella per un futuro migliore per tutti noi chi guadagna dalla guerra chi guadagna noi non guadagniamo niente dalla guerra in ogni guerra non ci sono vincitori ci sono solo morti ci sono solo morti solo il diavolo che ama la guerra non la gente normale come noi no solo allora io ho vissuto un'esperienza molto brutta alla fine del periodo del mio lavoro dieci anni fa io sono stata minacciata tanto dall'autorità palestinese e dalla gente che sono stati là ho dovuto lasciare il posto e la mia casa dopo 40 anni di vita di vita e lavoro meraviglioso secondo me però alla fine è caduto tutto così mi dispiace però io vi auguro che veramente pensiamo ognuno di noi a un punto di pace non a un punto di guerra allora io e Angelica siamo sorelle dal cuore siamo sorelle dal cuore e così io vi auguro che torniamo al punto di educare alla pace e non perdiamo la speranza credevo proprio che la sentivate perché mi ero stupita che non veniva perché è una delle donne più coraggiose che conosco grazie no veramente dobbiamo dire la verità no? dobbiamo dire la verità mi fa venire in mente perché un'ultima ultima cosa che devo dire che alla fine questa guerra finisce e vi auguro che quelli di Hamas finiscono finiscono anche loro non saranno più nel futuro chi rimane davanti a noi il vicino ebreo il vicino ebreo perché noi viviamo nella stessa terra e dobbiamo condividere non dobbiamo morire restituirei la parola a Piero grazie Samar che in arabo Samar vuol dire Samara giusto quindi è Brunella grazie grazie io credo che dobbiamo essere noi a ringraziare Samar e Angelica che ci hanno dato due testimonianze straordinarie e che confermano lo dicevo all'inizio quello di cui io sono convinto da sempre ma la forza delle loro parole diciamo l'ha dimostrato al di là della razionalità e cioè noi dobbiamo sempre partire dal dato che in quella terra vivono due popoli due popoli che entrambi esprimono un'aspirazione l'aspirazione del popolo ebraico e dello stato di Israele a vivere nella sicurezza a esserci a vivere a vivere nella sicurezza è riconosciuto dai suoi vicini e l'aspirazione del popolo palestinese ad avere una patria cioè il punto fondamentale che non può essere mai dimenticato e che soltanto costruendo le condizioni della convivenza noi usciamo da una situazione di conflitto che si protrae da più di 70 anni noi abbiamo avuto un lungo periodo in cui ciascuno non ha riconosciuto l'altro perché dal 1948 al 1991 io assumo il 91 perché è la conferenza di Madrid nella quale per la prima volta una delegazione palestinese si sedette al tavolo insieme a una delegazione israeliana e lì comincia un'altra ipotesi un'altra fase dal 1948 al 1991 noi abbiamo avuto una fase nella quale da parte palestinese in particolare dell'OLP si negava il diritto di Israele esiste tanto è vero che nello statuto dell'OLP c'era un articolo che parlava della distrazione di Israele e da parte di Israele si considerava il problema dei palestinesi al più un problema di profughi questo scenario che è stato poi caratterizzato da 5 guerre e più intifade 48 56 67 73 82 più 2 o 3 intifade in quell'arco di tempo ha conosciuto una svolta appunto nel 91 quando sotto pressione internazionale molto forte alla conferenza internazionale di Madrid per la prima volta si sedettero israeliani e palestinesi e di lì è cominciato un percorso che ha portato due anni dopo agli accordi di Washington prima i colloqui di Oslo poi gli accordi di Washington che sancivano un principio che è il principio fondamentale di cui ci hanno parlato Angelica e Samar e cioè che ciascuno riconosceva che il diritto dell'altro era legittimo come il proprio e soltanto così si è costruita la soluzione due popoli due stati perché tu costruisci due popoli due stati sulla base di un riconoscimento reciproco e io voglio ricordare per cui lo conoscete benissimo che l'accordo di Washington era un accordo che dal punto di vista della diciamo della della dottrina diplomatica era abbastanza anomalo perché in genere gli accordi di pace sono accordi in cui si negozia anche duramente ma poi quello che si è sancito dal giorno dopo si applica nella sua interezza l'accordo di Washington era un accordo per fasi nell'arco di cinque anni si sarebbero dovuti gradualmente realizzare una serie di tappe fino alla soluzione definitiva la realtà è che questo processo e perché si scelse questo perché avendo alle spalle cinquant'anni di negazione reciproca si pensò che un accordo di pace costruito per fasi avrebbe gradualmente favorito la crescita di una relazione di fiducia reciproca tale da poter essere in grado di affrontare tutti i problemi e in cinque anni portarli a soluzione così fu concepito l'accordo di pace la realtà è che le cose non sono andate così perché quei cinque anni si sono allungati via 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 e l'allungamento di un percorso che non arriva che non arriva mai alla soluzione finale lo sfibra lo svuota e a questa diciamo operazione di svuotamento di quell'accordo hanno contribuito come dire i radicalismi dei due fronti perché Netanyahu non ha mai evoluto l'accordo parliamoci chiaro io ricordo benissimo e Sergio credo se lo ricordi come me che è morto Rabin Netanyahu dichiarò con Rabin è morto anche Oslo come dire l'accordo di pace non c'è e infatti se guardiamo la politica di Netanyahu è stato gli insediamenti in Cisgiordani la giudeizzazione di Gerusalemme il tentativo di annettere la valle del Giordano tutte cose che contraddicono la possibilità di costruire uno stato palestinese e dell'accordo due popoli e dall'altra parte nel processo che non arrivava mai è cresciuto il radicalismo di Hamas e la crisi di queste settimane ha fatto vedere che Hamas e Netanyahu specularmente si sostenevano reciprocamente perché entrambi hanno deciso di radicalizzare al massimo perché ciascuno pensa che la radicalizzazione non fa realizzare quell'accordo contro il quale tutti e due e Sergio ha ricordato una cosa importante che secondo me nella stampa occidentale è stata sì citata ma sottovalutata quello scontro così radicale è avvenuto nel momento in cui nel percorso di formazione del nuovo governo israeliano è venuta avanti l'ipotesi che per la prima volta dei rappresentanti arabi partecipassero al governo questo ha fatto esplodere ancora di più i radicalismi perché Hamas vede come il fumo negli occhi che degli arabi partecipino al governo di Sarelli eppure Netanyahu che pure ha cercato di contattare gli arabi poi alla fine non li vuole e quindi si è prodotta questa diciamo lacerazione così drammatica che è un'acerazione ecco il carattere davvero straordinario della descrizione che ci hanno fatto Angelica e Samar e che questa radicalizzazione ha prodotto una lacerazione anche dentro la società israeliana tra arabi ed ebrei e sta producendo come dire ci fa stornare indietro se è vero che il processo di pace è fondato sul riconoscimento reciproco e sulla convivenza quello che è successo in queste settimane è far saltare il riconoscimento reciproco e far saltare la convivenza questo è e la descrizione di Angelica è stata clamorocchia chiarissima e anche le parole che ha detto Samar io le ringrazio perché è di grande emozione ascoltare questi loro questi loro interventi e quindi il tema è ripartire dal principio su cui sono fondati gli accordi nel 93 cioè ripartire adesso parte il 93 e non il 93 ripartire dal punto che scuso questo linguaggio perché io l'ho usato per molte volte che in quella terra non c'è un torto e una ragione in quella terra ci sono due ragioni perché è una ragione il diritto di Israele di vivere pace riconosciuto senza paura dei suoi vicini ed è una ragione l'aspirazione del popolo palestinese di avere una patria paradossalmente quando bisogna comporre due ragioni in conflitto è più difficile che comporre una ragione e un torto perché tra una ragione e un torto sai come schierarti facilmente sei contro il torto e sei dalla ragione dalla parte della ragione quando ci sono due ragioni da comporre che hanno alle spalle un lungo conflitto perché a lungo si sono negate è più complicato però questa è la logica secondo me che non può essere abbandonata e se c'è un'iniziativa internazionale che va messa in campo subito superando la colpevole assenza che la comunità internazionale ha avuto in questi anni è esattamente per ricostruire per esempio io penso che l'annuncio che ha fatto Blinken il segretario di Stato americano ieri che gli Stati Uniti riaprono un consolato a Gerusalemme Est è una decisione saggia perché sta nell'idea che c'è l'ambasciata americana che rappresenta gli Stati Uniti nel rapporto con lo Stato di Israele e però c'è anche una presenza diplomatica che riconosce che c'è un'entità palestinese che non è ancora uno Stato è tutto da negoziare ma c'è il consolato americano Gerusalemme Est ha questo senso quindi il problema è come ho finito è come si ricostruisce esattamente questo principio e io credo che siccome quello che avete descritto voi che cosa ci dice anche le cose che ha detto Sergio su come hanno vissuto l'opinione pubblica israeliana i razzi che arrivavano eccetera siccome questa crisi ha scavato un solco profondo di rancore di odio di incomunicabilità come testimoniano i discorsi gli interventi di Angelica e di Shamar non ritorno a un tavolo da soli israeliani e palestinesi in un contesto di questo genere ci ritorno se c'è qualcuno che lavora per portarceli e qui c'è una grande responsabilità della comunità internazionale che deve uscire dalla passività che ha avuto in questi anni e gli americani lo stanno facendo in queste settimane e spero che non lo facciano solo loro e che tutti lavorino per ricostruire le condizioni di un dialogo di un negoziato ma la condizione prima è che ci sia nuovamente un riconoscimento reciproco perché senza riconoscimento reciproco tu non fai la pace con uno che non ti riconosce è semplice negozi fai la pace concedi qualcosa ottieni qualcosa sulla base di un rapporto tra due che si riconosca è chiaro se no non ci sono le condizioni per farlo ecco io credo che questa sia la questione oggi davanti a noi e io le ringrazio molto spero che molti ci abbiano ascoltato e possano rivedere perché lo metteremo sul sito del CESPI la registrazione di questo nostro incontro perché le testimonianze di Angelica e di Samar sono veramente straordinarie spero che molti le ascoltino e capiscano ti ringrazio Piero io vorrei riprendere sulla base degli interventi che abbiamo ascoltato riprendere alcuni punti per la seconda fase anche sulla base delle sollecitazioni che ci sono arrivate un primo punto è la differenza del contesto cioè gli accordi di Oslo nascono nel centro del collo dell'impero sovietico e avvengono in una tradizione che dopo tantissimi anni non c'era stata nel vicino oriente e Rabin aveva accolto questa opportunità e purtroppo ha pagato anche con la vita questo grande coraggio di Coglio un'opportunità cioè che per un momento particolare l'olp era più debole per avere sostenuto Saddam Hussein il Vaticano dopo avendo avuto anche qualche passo falso durante la guerra su questi temi ha corso contro il tempo per rientrare negli accordi di Madrid poi legati anche a tutto quel che riguarda il Vogue is Antti una situazione nuova in cui era emersa anche una nuova leadership dei sindaci una situazione nuova particolare e dove la grande diplomazia internazionale guidata anche dagli Stati Uniti aveva la forza e la capacità di spingere in questa direzione tragicamente le cose sono andate diversamente io penso che uno dei limiti degli accordi di Oslo è di non aver fissato in anticipo perché le faci funzionano quando l'accordo già in anticipo sa dove si arriva altrimenti il rischio è molto grande ma questa è una considerazione che possiamo fare post hoc è facile gli statistici e i matematici e gli psicologi cognitivi ci dimostrano che post hoc puoi dire tante cose ma è prima è difficile prevedere il secondo elemento è oggi non abbiamo il contesto del 93 abbiamo un contesto diverso su questo magari sia Sergio che Piero ci possono dare un grande contributo alla riflessione è che oggi non abbiamo abbiamo da un lato una Turchia diretta da una leadership fortemente impregnata dall'ideologia dei fratelli musulmani e che si è occupato di fatto è presente in Libia e che gioca una parte non indifferente nell'accentuale nell'accentuale la crisi che ce n'è vicino Oriente dall'altro lato abbiamo la mezzaluna sciita e non è la stessa situazione di 30 anni fa che preme e che di fatto controlla il Libano con la presenza di Hezbollah tenta di arrivare fino al Golan potrebbe lanciare i missili da Teheran nel caso di una guerra potrebbe crearsi uno scenario spaventoso dove hai missili che arrivano da Teheran missili che arrivano dal Libano e missili che arrivano da Gaza e in un contesto del genere l'Iron Dome non può funzionare e io so seguendo molto i siti che si occupano di questioni militari che molti di questi conflitti sono anche delle prove iniziali di quello che potrebbe accadere in uno scenario che noi auspichiamo non arrivi mai e dobbiamo fare di tutto perché non arrivi allora ci sono due accordi di Abramo cioè noi abbiamo avuto un accordo di Abramo e abbiamo avuto un viaggio del Papa in Iraq dove il giorno di sabato si è celebrato l'accordo di Abramo e non c'erano ebrei e si è fatto di sabato anche questo non è un fatto secondario vuol dire che gli ebrei erano esclusi a priori non sono stati invitati e io so che ci sono stati diversi esponenti religiosi del mondo anche sciita che in privato non hanno condiviso tutto questo parlo di esponenti in Iraq non in Iran ovviamente parlo di personalità che non si sono espresse in pubblico ma la sensibilità e il problema si sente e questo è un aspetto il secondo aspetto invece un accordo di matrice sunnita che di fatto è all'interno di una dimensione geopolitica e allora io a questo punto sulla base anche di quello che ha detto prima Sergio volevo capire come potevi te Sergio interpretare una situazione così contraddittoria dove però noi dobbiamo guardare al futuro immaginando la possibilità che il dialogo tra le persone e la dimensione religiosa di Abramo che valorizza la vicinanza di tutti i popoli della religione sia pienamente recuperata darei la parola a Sergio sì naturalmente esiste sempre una linea ideale in cui si vedono le possibilità e si sperano queste convergenze io sono leggermente scettico e sono piuttosto su una linea che guarda la realtà e vede delle possibilità ma si rende conto anche che il fatto che esistano dei conflitti interni all'interno di ognuna delle due parti in questo momento gioca contro la soluzione positiva dell'incontro perché gli estremismi purtroppo condizionano sempre i moderati questo noi lo conosciamo nella politica di tutti i paesi del mondo anche in occidente quindi alla stregua che in Israele purtroppo anche nella situazione di stallo in cui ci troviamo frange estremiste relativamente piccole ma con un potere contrattuale forte a causa del sistema elettorale quindi del metodo delle coalizioni e di una maggioranza parlamentare che si deve creare queste frange estreme condizionano tremendamente quelle forze più disponibili che ci sono anche a destra ma comunque ovviamente al centro al centro-sinistra e nella sinistra e chiaramente nel mondo arabo o meglio nel mondo musulmano la frattura al di là della frattura più specifica leggermente tecnica fra sunniti e sciiti ma fra moderati e disponibili e desiderosi anche di integrarsi in un sistema mondo un sistema occidente un sistema modernizzazione e progresso e benessere e coloro che invece rifiutano tutto questo fa sì che le forze più estreme siano estremamente pericolose non dimentichiamo che l'Iran fa una corsa folle verso l'armamento nucleare ora si tende a dire sì Israele il Medio Oriente è la potenza forte quindi è anche la potenza che dovrebbe fare un passo indietro dovrebbe dare la mano per prima dovrebbe essere quella che fa la prima concessione ma sì questo sarebbe appunto certamente desiderabile e come è stato detto quando le due parti si riconoscono ma quando una parte prepara l'armamento nucleare e lo dichiara e l'altra parte ha nel suo statuto la dichiarazione che questo è ciò che va fatto è anche facile capire una certa esitazione fra l'altro tra parentesi a coloro che certamente in questo forum si interessano e dobbiamo dire che la sinistra israeliana che ha avuto l'egemonia del paese non solo dal 1948 ma in realtà dall'inizio degli anni 30 cioè prima della fondazione dello Stato ma quando già c'era una comunità ebraica organizzata a quasi Stato e fino al 1977 questa egemonia è scomparsa completamente e la sinistra è quasi evaporata ma perché? Perché di fronte a determinati estremismi alla non disponibilità e qui naturalmente non posso se non inchinarmi alle parole di Samar che veramente emozionano per la sincerità e la profondità del discorso e dimostrano come il discorso è possibile ma chi lo rende impossibile causa purtroppo una reazione pari e contraria che porta anche a una radicalizzazione del campo ebraico questi sono dei dati tragici che non è facile spostare naturalmente in breve il discorso allora si sposta sul ruolo del mediatore e qui c'è da dire molto sul ruolo del mediatore il mediatore occidentale non ha fatto bene devo dire abbastanza fallito in parte perché è diviso in parte perché gli interessi particolari locali sono più forti degli interessi collettivi o del bene in senso in senso generale ma io qui però ho una pretesa letteralmente una pretesa e cioè l'intervento dell'occidente deve escludere però le forme di intolleranza cioè quel personaggio chiamiamolo anche per nome l'allora ministro il primo ministro D'Alema che usò la parola equivicinanza tenendo a braccetto un esponente di Hezbollah lui voleva dire noi siamo equivicini a chi fa la bomba atomica per distruggere Israele e a chi invece in Israele vuole vivere ora essere equivicini non si può accettare bisogna fare delle scelte noi in Israele ovviamente abbiamo il problema che dobbiamo fare delle scelte il mondo occidentale anche non può essere neutrale inclusivo di tutto e quindi alla fine della giornata qualunquista deve dire noi interveniamo però interveniamo anche in una maniera forte per gestire certe parti del conflitto per esempio gli investimenti economici che sono urgenti a Gaza e che vanno investiti in case ospedali fognature scuole e non in camminamenti sotterranei armamenti fabbriche di esplosivi tutto questo va controllato da chi va controllato ovviamente dai mediatori quindi anche dai mediatori si esige una partecipazione non completamente indifferente ma coinvolta e che sappia fare quindi delle scelte e che potrebbe avere indubbiamente un risultato positivo perché io continuo a credere che in definitiva Samar e Angelica non sono due casi isolati di persone strane avulse dal contesto io credo fermamente che c'è una forte base di ragionevolezza di coerenza e anche al di là della buona volontà perfino di un rapporto personale di grande vicinanza che è possibile e che viene soppresso e represso e che va incoraggiato e quindi questo va fatto in maniera esplicita con le scelte che ho delineato brevemente grazie Sergio mi ha fatto pensare quanto a un proverbio arabo di vive in un'isola delle farsi amiche Israele vive dentro un mare non lo sto sentendo io non so perché giustamente ha bisogno di David David ripeti ripeti il proverbio perché c'è stata una interferenza ripeti per favore ti ascoltavo pensavo a un proverbio arabo che secondo me si applica bene alla situazione del vicino oriente in particolare Israele e a chi e a chi dentro israele consente speranza in un futuro di lì chi vive in un'isola deve farsi amico il mare ecco questo mi sembra il messaggio che viene dal lavoro concreto che Angelica e Samar svolgono e vorrei ascoltare direi vorremmo tutti insieme ascoltare anche se per brevi minuti perché il tempo scorre un commento di Angelica e poi un altro commento di Samar prima di dare la parola a Piero per le conclusioni io volevo dire questo io ci sono contentissima che Samara è entrata perché uno dei motivi per cui io l'ammiro più di tutto è il suo coraggio e ci vuole oggi coraggio ci vuole coraggio proprio per quello che avete ricordato gli estremismi sono purtroppo l'estremismo impedisce a chi invece vorrebbe vivere tranquillamente in pace l'amico del mare a chi dice no 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 è impossibile fare una cosa del genere e serve molto coraggio continuare a essere chi siamo e quando si parla di aiutare di nuovo il Medio Oriente sarebbe molto molto importante se l'Europa non mandasse i fondi per come ha fatto per molti molti anni o come mi fa piacere che avete ricordato D'Alema perché D'Alema ho sentito stamattina otto minuti mi ha fatto venire veramente i brividi di come dice talmente tante inesattezze mi ha fatto veramente sono rimasta male a vedere un personaggio così importante che dice così tante inesattezze su quello che succede in Israele ma i soldi che purtroppo manda all'Europa non sono stati come dice lui per dare i salari ai palestinesi ma per costruire tantissime armi allora se si deve veramente aiutare si devono fare dei progetti pedagogici progetti sociali per far conoscere le persone perché le mura i mura i muri non sono i muri come quelli che ci sono adesso qua i muri sono i muri umani delle persone che hanno dei pregiudizi che dicono dell'altro è un mio nemico vi dico solamente questo piccolissimo breve esempio che molti anni fa eravamo in Italia e ci chiesero di andare a fare una conferenza con un palestinese e un israeliano e ci andò mio marito eravamo lì davanti a mille insegnanti e dissero chi vuole aprire e aprì il palestinese e lui disse sono nato a Gerusalemme e sono seduto qui con il mio nemico e cominciò a dire tutto quello che voleva dire quando parlò a Yehuda mio marito disse mi hai chiamato nemico tu sei nato a Gerusalemme e io sono nato in Galilea non ci siamo mai visti perché mi chiami nemico e questo pensa che sia la cosa più importante del mondo far capire ai ragazzi ai bambini ai giovani alle persone che non siamo nemici siamo esattamente come voi vogliamo quello che volete voi e questo è quello che ci si deve aiutare a fare dei mediatori che riescano a metterci uno insieme all'altro e io personalmente sono expert trainer in questo faccio diventare amici tutti ok questo pone un problema anche per la politica che fanno problemi sui libri di testo io ricordo tanti anni fa che il presidente dell'associazione Italia Palestina si presentò nel nostro parteneo per chiedere di fare un accordo con Birzeit mi chiesero cosa ne pensassi in quanto all'epoca ero presidente della commissione scientifica del dipartimento mi presi un po' di giorni e tornai io col progetto e lo invitai e dissi facciamo un progetto Roma 3 l'università di Alcuz l'università di Gerusalemme ho fatto anche direttamente il nome di Sergio anche se lui non è mai stato informato perché il progetto è caduto nel frattempo ci possono essere altre università lavoriamo sui libri di testo che si usano nelle scuole facciamo uno studio comparativo del meccanismo del pregiudizio nei libri di testi europei sugli immigrati nei libri di testo palestinesi che di fatto sono carichi di odio perché voglio dire sono costruiti poi paradossalmente con soldi delle Nazioni Unite facciamo uno studio comparativo sui libri di testo israeliano e poi facciamo un convegno facciamo insieme un convegno non per riscrivere interamente i testi ma per segnalare dove i testi devono essere rivisti in maniera che la comunità scientifica dei pedagogisti poi possa fare la sua parte e cosa è successo? Il collega è sparito non è più tornato e dopo quando c'è stato una ci sono state una serie di filmati di Hamas eccetera che invitavano all'assassinio ed esaltavano l'assassinio io mandai una lettera a Repubblica e si aprì una discussione forte su questo dove la persona che ci è venuta a trovare in dipartimento perché ancora aspetto perché noi dobbiamo lavorare sui libri di testo i libri di testo costruiscono l'immagine del futuro e il modo in cui si racconta il passato non è una ricostruzione del passato in ambito pedagogico il modo in cui noi parliamo del passato prefigura il futuro che ci vogliamo dare per cui nel tuo intervento nell'intervento di Samar che adesso saremo contenti di ascoltare un breve intervento per dare il tempo all'onorevole il fascino di concludere questa importante discussione che abbiamo avuto oggi vorremmo ascoltare dovrebbe accendere il microfono suo è spento ora ora acceso mi sentite ok allora la cosa la cosa che vorrei aggiungere su libri sul punto di libri perché è una cosa molto importante allora io sono vissuta dal 71 a Betania dal 71 fino al 95 erano dei israeliani che hanno controllato tutto i nostri libri della scuola dei bambini erano libri che non hanno avuto mai una parola di odio ok neanche la parola palestina 95 quando sono arrivati i palestinesi tutti questi libri sono cambiati prima del 95 i bambini non hanno avuto questa parola palestina e tutta la storia della palestina nei libri 95 quando sono tornati l'autorità palestinese a governare tutti questi libri sono stati cambiati chi ha pagato per questi libri non lo so però dico che tutto il curriculum è diventato un'altra storia noi abbiamo dovuto seguire l'autorità palestinese per forza che hanno chiesto a tutti le scuole di avere la bandiera palestinese il mattino e a dire il national anthem dei palestinesi prima del 95 non abbiamo avuto queste cose comunque ogni giorno tutte le scuole a Betania hanno dovuto avere la bandiera palestinese e il national anthem ogni mattina prima di entrare in scuola allora prima del 95 noi non abbiamo avuto questa cosa mai nella nostra vita comunque una confusione totale anche per i bambini perché iniziando con un libro è diventata un'altra storia io credo che l'educazione è la cosa più importante nella vita di tutti come facciamo crescere i bambini come facciamo lasciare questi bambini a pensare liberalmente alle cose perché questi bambini sono costretti a pensare quello che pensano ora a tirare sassi ad essere senza educazione normale di ogni giorno noi abbiamo proibito ai nostri bambini dell'orfanatrofio di uscire fuori a tirare sassi e noi siamo stati l'unica scuola che è andata avanti due anni che le scuole sono state chiusi la prima intifada abbiamo detto di no perché l'educazione è la cosa che fa il futuro per ognuno di noi l'educazione comunque e alla fine io spero che torniamo al punto del passato perché ora le cose stanno sono molto molto difficili per i bambini molto difficili bevi bevi l'acqua sì sì però io sono stata proprio commossa forse ringrazio molto Samar ci sono due questioni che sono emerse nel corso di questa nostra conversazione uno che la pace si fa in due ed è un elemento importantissimo due che i diritti nazionali vanno riconosciuti nell'ambito di un processo di composizione dei conflitti tre che c'è una dimensione religiosa del dialogo che non va assolutamente dimenticata quattro che la crisi attuale è particolarmente pericolosa perché avviene sullo sfondo di movimenti geopolitici nella regione che vedono due potenze imperiali che premono sul Mediterraneo da un lato una turchiana ottomana che preme e vuole prendere il controllo sunnita all'interno del mondo arabo ripropone il vecchio modello imperiale e paradossalmente è tornata in Libia cento anni dopo che è stata lasciata in seguito all'invasione italiana secondo la mezzaluna sciita quindi il rischio determinato dal vuoto dell'Occidente perché c'è un grande vuoto un vuoto dell'Europa un vuoto degli Stati Uniti c'è un grande vuoto e c'è un ingresso della Cina nel Mediterraneo quindi un ulteriore elemento di cui stasera non abbiamo parlato che complica ulteriormente il quadro ecco darei a Piero la parola per le conclusioni grazie 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 allora ma io diciamo molte cose che sono state dette sono le condivido e non è che faccio le conclusioni faccio solo qualche riflessione mia conclusiva certo sono d'accordo con quello che ha detto Davide il quadro rispetto al 93 è cambiato e di fatti la storia non si ripete meno che meno in queste vicende quindi io non sto non ho la come dire non penso che bisogna ragionare agire come si ragionò e si agì nel quadro un quadro internazionale e regionale molto diverso da quello di oggi però un punto che il punto è per me centrale invece è quello che va ripristinato cioè il 93 l'accordo si fece sulla base di un reciproco riconoscimento quello che è saltato è questo e questa crisi di queste settimane l'ha fatto saltare ancora di più e non solo l'ha fatto saltare tra palestinese e italiani ma dentro la società israeliana tra ebrei e armi se non si ricostruisce una cultura del riconoscimento la pace non ci sarà da questo punto di vista io considero che la cosa più pericolosa di tutte è la possibilità che Hamas prenda la guida la leadership in campo palestinese perché Hamas nel suo statuto in ben tre articoli come ho scritto nei giornali italiani nei giorni scorsi ha come obiettivo la cancellazione dello stato di Israele ed è evidente che questo cozza con qualsiasi possibilità di pace perché se tu non solo neghi l'altro ma dire tu lo vuoi cancellare non c'è accordo non c'è possibilità e quindi i casi sono due o come ha fatto a un certo punto l'OLP perché può accadere anche questo Hamas rinuncia a quell'obiettivo perché nella carta iniziale dell'OLP c'era quell'obiettivo poi sotto la pressione internazionale per le condizioni che si crearono Arafat accettò di togliere quel riferimento nella carta costitutiva dell'OLP o Hamas accetta cosa che allo stato attuale mi sembra molto complicata non devi mai escludere nessuna ipotesi accetta di rimuovere dal suo statuto quella finalità e quindi accetta di fare i conti con Israele e lo riconosce oppure è chiaro che Hamas non può essere l'interlocutore di nessun negoziato di nessun processo di pace perché non si negozia con chi ti nega quindi queste sono le no io spero perché la prima ipotesi è quella che ancora apre una prospettiva di pace la seconda no quindi io spero che sotto una forte pressione internazionale e in questo possono essere utili alcuni paesi arabi Hamas possa evolvere in una posizione diversa ma è solo un auspicio se non c'è questa evoluzione è chiaro che Hamas non è un interlocutore però il problema diventa molto serio perché siccome nella nella società palestinese soprattutto tra i giovani Hamas ha un consenso largo quel radicalismo di Hamas con un consenso largo inibisce a chiunque di fare la pace noi sappiamo tutti perché è il dato di fatto che Abu Mazen è molto molto debole e sappiamo cosa che non si è scritta sui giornali italiani occidentali che il rinvio delle elezioni palestinesi da parte di Abu Mazen non è stato motivato dal fatto che gli israeliani hanno detto che non potevano votare i palestinesi di Gerusalemme anche no la vera motivazione è che alle elezioni palestinesi Al Fatah stava per andare con tre liste in competizione tra loro mentre Hamas andava con una lista sola e questo avrebbe agevolato e favorito la vittoria di Hamas Abu Mazen quindi si è fatto carico di fare una scelta molto complicata che agli occhi dei palestinesi lo ha indebolito ancora di più però come capita spesso in politica una decisione giusta non necessariamente ha consenso quindi 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 la situazione è molto molto seria perché Abu Mazen è debole Al Fatah è una costellazione di posizioni politiche in lotta tra loro non da oggi da lungo periodo Hamas cresce nel consenso in nome di un radicalismo che naturalmente trova una sponda nelle posizioni che Netanyahu persegue mette il punto e poi c'è quello che diceva Sergio in Israele c'è una fragilità politica che d'altra parte ha portato in due anni quattro volte a votare e non sappiamo neanche se non si voterà una quinta volta o se addirittura ieri mi facevano uno scenario che dà il senso della fragilità e cioè che la cosa si trascini attraverso tutti i meccanismi procedurali che sono previsti in Israele per la formazione del nuovo governo il periodo transitorio qua e là e che Netanyahu possa arrivare fino a novembre quando dovrebbe esserci sulla base dell'accordo di fatti da Netanyahu con Gantz il cambiamento no il cambio ma mi sembra cervellotica ma per dire come la situazione è molto complicata è molto è molto complicata quindi tu hai una fragilità politica in Israele dato dal fatto che veramente diciamo quando tu vai a votare quattro volte in due anni e tutte le volte l'equilibrio che esce è precario come è accaduto anche nell'ultima elezione è chiaro che questo è un elemento di fragilità che però è un elemento di fragilità che aiuta solo chi è radicale cioè Netanyahu dall'altra parte è una fragilità una debolezza di Abumaze di cui approfitta il radicalismo di Hamas la situazione è effettivamente molto molto complicata per questo io dico che bisogna premere in ogni modo per un'iniziativa internazionale perché se i due soggetti sono caratterizzati da questa fragilità e nella fragilità nei due campi prevale chi è radicale da sole a un tavolo non ci vanno mi pare del tutto evidente ci vanno solo se forse c'è un'iniziativa internazionale che ce li porta e quindi io penso che la cosa su cui bisogna insistere in tutti i modi è appunto un'azione della comunità internazionale gli Stati Uniti non solo gli Stati Uniti anche altri naturalmente naturalmente sapendo che se tu ti metti come mediatore deve essere accettato dalle due parti per esempio io non da oggi sono molto critico nei confronti dell'Unione Europea perché l'Unione Europea ha avuto in questi anni soprattutto per bocca del Parlamento europeo una linea che che non era una linea diciamo che faceva che si faceva riconoscere da Israele io quante volte mi sono sentito dire da amici della comunità ebraica o da amici israeliani insieme all'Europa e contro di noi frase semplice nella sua semplicità ovviamente estrema che però dal senso di una percezione quindi se l'Europa vuole essere mediatrice bisogna che si faccia riconoscere il mediatore per definizione deve essere riconosciuto dalle due parti che tentano di mettere d'accordo se no non è un mediatore quindi 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 è chiaro qui c'è anche una cosa che stasera noi non ne abbiamo discusso meglio ne abbiamo discusso in modo diciamo indiretto c'è uno spazio c'è una come dire una responsabilità anche di alcuni paesi arabi perché non c'è solo l'Iran che è un pericolo ovviamente o la Turchia che è un pericolo ovviamente l'Egitto che è partita vuole giocare gli stessi paesi che hanno sottoscritto gli accordi di Abramo li hanno sottoscritti dicendo che così perché questa fu la dichiarazione degli Emirati Arabi Uniti per esempio perché così avrebbero favorito diciamo il negoziato per una soluzione palestinese e beh ma si mettano in campo allora se è così no cioè quindi io penso che bisogna sollecitare vari attori internazionali a mettersi in campo perché questo è l'unico mi sembra in questo contesto che voi avete descritto molto radicalizzato in un campo o nell'altro è l'unica diciamo chance in questo momento a me colpisce molto vabbè tutti abbiamo gioito naturalmente della manifestazione di Tel Aviv di qualche giorno fa quella dove ha parlato Grossman e altri che ha visto tanta gente ebrei e arabi insieme a manifestare eccetera però credo che sia l'esperienza di molti di noi a me colpisce come ci sono amici israeliani di sinistra che hanno votato il merezzo che hanno votato il labor che vogliono la pace e che oggi hanno più paura di ieri perché temono che la Cisgiordania diventi un'altra ragazza e dobbiamo sapere che c'è questa paura di gente che vuole la pace che vuole riconoscere che bisogna dare uno stato ai palestinesi e quindi non ha posizioni oltransiste però questo dà il senso della della complessità e bisogna fare in fretta perché l'esperienza che abbiamo vissuto in Medio Oriente è che non è vero che il tempo lavora per la pace no più passa il tempo e più la pace si allontana e quelle lacerazioni di cui ci hanno parlato Angelica e Samar che cominciano a essere lacerazioni che entrano anche dentro la società israeliana se passa del tempo si approfondiranno diventeranno più acute quindi abbiamo bisogno di una azione tempestiva e quindi io penso che bisogna premere in ogni modo su chi può e chi può ripeto sono i grandi player però le opinioni pubbliche secondo me devono dobbiamo muoverle non è semplice non è facile però io penso che bisogna agire così qui mi fermo grazie non ti sentiamo Davide devi accendere il microfono ringrazio Piero ringrazio tutti i relatori possiamo salutarci così sperando che le frontiere dello spirito perché dobbiamo tenere distinto di piano la dimensione della politica che è ideata dal punto suo da dei livelli molto grandi su cui possiamo incidere come singole persone ma che ha una sua autonomia e la dimensione personale che non va mai annullata e dimenticata e che consiste nella capacità di tenere aperte le frontiere dello spirito se le frontiere dello spirito restano aperte l'immaginazione più o meno la capacità di immaginare un futuro diverso è possibile grazie a tutti quanti grazie 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 a voi grazie possiamo salutare con il proverbio chi vive su un'isola deve far pace con il mare esatto grazie 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 a tutti veramente speriamo